gamberoni in padella al vino bianco taglio sul dorso del gamberone e rimuovo il carapace da sotto la testa fino all'ultimo anello prima della coda poi tolgo l'intestino con lo stuzzicadenti e sciacquo bene asciugo tamponando e faccio una veloce bisque con i carapaci e qualche testa senza occhi olio pomodorini sale metto l'acqua e schiaccio ora metto l'aglio e faccio cuocere 20 minuti poi filtro e metto da parte olio in padella peperoncino aglio e faccio cuocere i gamberoni 20 secondi per lato poi li tolgo e li metto da parte ora metto i pomodorini un mestolo di bisque e faccio cuocere per 10 minuti a fiamma alta rimetto i gamberoni sfumo col vino bianco pepe evaporato il vino metto un po di bisque copro e faccio cuocere due minuti tolgo i gamberi faccio restringere il sughetto e poi lo filtro ed ecco qui buon appetito